Fumogeno, non ammazza nessuno, però oscura, ostacola, vi può aiutare a sfuggire, vi può aiutare a riferirci a qualcuno, qua ce ne sono un paio, altra cosa importante, la vostra logistica ha inviato dei ulteriori armamenti, che però siccome la vostra logistica fa la caccia, quindi o un po' a culo, o un po' le cose condizioni, o un po' le cose condizioni di armamenti, quindi aprite la leggenda e la leggenda, diceva, la vostra logistica ha mandato per errore nel campo nemico questa caccia, ci stavano altre di queste, per cui queste commentatevi. Ah, ci potrebbe essere a mele. a te, a te, a te. A te, a te. A te. A te, a te. A te, a te. perchè c'è una granata un'altra granata granata cazzo non sono le cespuglie non è scoda sono la giore la loro ce la devi fare che vado a scoprire la loro va va la loro la scopo più si che dice qui? 5.000 fuori sono la granata a coincide la mia panna cazzo colpito un po' più a po' griscia a posto rimane qui con noi cazzo sono giù vedi che ho ragione avanziamo avanziamo muovete non c'è la granata non c'è la granata non c'è la granata non c'è la granata Abbiamo trovato un obiettivo Ho trovato una cassa Troppo lontano Troppo, cazzo Marco, accoprimi che prendo il pomaggio e non li ho rilancio Troppo lontano 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 Oh, Emilio, scusami. No, ero tutto io. Ancora tu. Beh, giocare a tennis la prossima volta.